DRAGON FORGE Dyson Sphere, nel senso che lì vagavamo con un robot, qua vagheremo a costruire con un drago, quindi l'ambientazione è più stile medievale. Randomize sì, vediamo, possiamo fare il nostro drago, il nostro drago poi evolverà fino al punto da poter anche volare sulla mappa, ma all'inizio non lo potrà fare. Questo mi sembra carino, non sto lì tanto a fare. Abbiamo il nostro uovo. Vediamo un pochino se questo gioco merita, poi magari in caso di gran successo lo porteremo in live. Saluti, sono il tuo antenato spirituale, Sissifo, tradotto in italiano tra l'altro, e non sarà il reaccess da quello che ho capito. Molti anni fa noi draghi siamo andati in guerra contro i demoni per il potere e territori. Abbiamo combattuto ferocemente, ma alla fine siamo stati traditi e tutta la nostra razza è stata sterminata. Adesso... Sei sia il primo, mancano le virgole, però è tradotto bene. Sei sia il primo che l'ultimo della nostra specie. Sei stato creato per un compito speciale. Oddio. Maledetto è il terreno per il tuo bene. Potrei rimangiarmi quello che ho detto sulla traduzione, eh? L'altra missione è quella di liberare questa terra dalla maledetta nebbia velenosa. Quando questa terra sarà libera dalle maledizioni, potremo tornare a fiorire. Sono necessarie tante risorse per liberare questa vasta terra. Quindi andiamo, andiamo a provarlo. Avrai bisogno di aiuto in questa impresa. Jilk, vieni fuori. Eccolo. Questi arrivano direttamente dal World of Warcraft. O da Warcraft, insomma. Jilk e il resto dei goblin di questa terra sono stati scelti per servirvi e assistervi nell'impresa. Ma fai attenzione, i goblin sono sconsiderati e non prenderli come esempio. Vai, adesso e lavora senza mai fermarti fino al successo. Va bene. Poi potremo volare per questo mondo. Chi diavolo era quello? Da Jilk, il fornitore di missioni. Oh wow, devi essere nuovo da queste parti. Puoi usare vaste per spostarti. Vieni a trovarmi giù per la collina e ti mostrerò di più. Ok. Siamo piccolini, quindi come ho detto dobbiamo camminare e saltellare. Questa è l'interfaccia di gioco che possiamo allontanare e ci muoveremo così. Vi dico subito. La camminata del drago sembra fatta davvero bene perché si percepisce che non è un essere proprio leggero, leggero. F. Eccellente. Adesso sai come muoverti. Cerca di non dimenticarlo. Alza gli occhi. E' apparsa un cespuglio. Fanno tutto da soli. Non è giusto, te lo dico io. Ecco del carbone. Il carbone viene usato come munizione per l'abilità palla di fuoco. Quindi usa il pulsante sinistro del mouse per attaccare quel cespuglio. E dov'è quel cespuglio? Ma il cespuglio non c'è. C'è, scusa eh. Questo cespuglio? No, abbiamo preso delle fragole. Ah no, eccolo qua, eccolo qua, eccolo qua. Ok. Carbone. Si può saltellare. Poi, ripeto, potremmo anche volare. Andiamo avanti. Parla con il mercato. Eccellente. Così impara con il maledetto cespuglio a spuntare da nulla. Cespuglio, vabbè, tradotto un po' così perché è un cumulo, insomma. Davo un po' di legno come ricompensa. Hai guadagnato 1125 di esperienza. Hai ricevuto 20 legni. Hai avvisione di un'officina per creare edifici più grandi. Carei un'officina premendo E per aprire l'inventario. Adesso vediamo anche questo. Hai avvisione di 10 pietra e 30 di legno. E' un po' così come idea mia, forzata come cosa. Nel senso che il drago che costruisce è un po' strana come cosa, ma va bene. Dobbiamo farci un po' di pietra, eh. Vediamo se riusciamo. Ah, la pietra è questa, credo. Pietra grande, vediamo. Ok. Questo è un'altra pietra grande, ok. Prendiamo un po' di pietra. Non è bellissimo l'effetto, ma premi la E e vediamo. Allora, officina e fornace. Prendiamo legno. No, pietra ce ne serve ancora un botto. Quindi prendiamo sia questo... Che il legno. Il legno non è proprio il massimo. Buttare giù un albero con il fuoco. Ma va bene. Va bene. Ah, guarda quanto. Quanto ce n'è qua. E questo cos'è? Dragole. Va bene. Andiamo a vedere come si evolve la cosa. Allora, costruiamo l'officina. Ma, scusa, la voglio fare qui, no? Ah, l'ho messa qua. Ok. Posso piazzarla qui. Nell'officina abbiamo delle ricette. Scrigno, conservatore oggetti, lampada, altare, laboratorio, cucina, mulino, fattoria, pozzo, farmacia, miniera. Spettacolo. Consumabile. Equipaggiamento. Eccellente. E mo'. Eccellente. Adesso puoi creare edifici più grandi. Hai guadagnato 1160 di esperienza. Hai ricevuto 20 di pietra. Per creare le gemme... Vabbè. Hai raggiunto il livello 2. Salute massimo è aumentata di 28. E sei tornato in piena salute. Il vigore è aumentato. I tuoi danni sono aumentati. Dovrai guadagnare 2049 per il prossimo livello. Va bene. Ci sta. Guarda come siamo belli. Per creare le gemme è necessario in un laboratorio. Le gemme create possono essere sacrificate per ottenere mana, che può essere utilizzato per purificare la terra. Crea un laboratorio. Andando nell'officina e usando la ricetta del laboratorio. Ho bisogno di 20 di pietra e 30 di legno. Dove morirli. Officina. Devo fare laboratorio. No, il legname non ce l'abbiamo. Ero convinto. Invece no. Fammi buttare giù questo. Perché mi dà un fastidio la visuale. Devo fare spazio. Per azione asfalto che ride. Ma possiamo saltare giù? Sì. Allora, il movimento è carino del drago. Poi bisogna capire se tutto combaccia correttamente all'interno del gameplay. Sarà figo qua. Ah, ma voliamo già. Ah, fantastico. Spezza la meditazione. No, vedete che mi servono le gemme per andare avanti. Per espandere. Quindi... Ah, qua scegliamo l'abilità. Così. E con tab prendiamo invece il fuoco. Ok. Allora. Costruiamo con... Allora, laboratorio. Ok. Lo piazziamo. Non pianeggiante. Non pianeggiante. Perché posso piazzarlo io in un laboratorio? Eh, mannaggia. Qui non ci sta. Eccolo qui. Ecco qui. Sì, è un po' fastidioso perché è una parte che... Ah, con l'acqua si vola. Però per un breve periodo di tempo. Bello. Vabbè, fatemi volare. Qui di qua. Scendi, scendi. Eh, poi finisce il mano e torniamo giù. Ah, sì. Eccellente. Adesso puoi iniziare a creare gemme. Non è bellissimo il posto dove ho costruito, ma va bene. 20 di legno. E ho bisogno di un altare. Ha raggiunto il livello 3. Vabbè, danni aumentati e va bene. Dovremo riparlarci. Ho bisogno di un altare perché... Perché quest partiva ma poi c'era il livellaggio, quindi... Eh, ho bisogno di un altare. Ma non può essere usato per glorificare. Crea un altare andando nell'officino usando una ricetta dell'altare. Ho bisogno di 50 pietre e 20 di legno. Ok, ci mancherà il legno, sicuro. Quindi buttiamo giù il legno. Finito. Perché è partita questa musica? Ma soprattutto con il laboratorio... Ah, si fa il mana. Gemma dell'acqua, insomma. Si fanno varie cose. Vediamo. È brutta sta zona perché l'ho piazzato proprio così, ma... Non è proprio comodissima. Fammi buttare giù un po' di... Un po' di roba perché... Così facciamo un po' di spazio. Ma è quello lì chi è? Vedete che si ricarica. Ok. Fragole che crescono sull'albero. Allora, officina, altare... Credo. Scusate, ma... Laboratorio. No, qua ci sono tante gemme. No, cos'è che devo fare? Crea l'altare? Ma l'altare non c'è. Miniera, monino, cucina... Altare? Ok, no. Non manca pietra. Non manca ancora tanta pietra. Quindi andiamo a farla. Qua non si può. Vediamo se ce n'è qua sotto. Dovrebbe. Sì, effetti grafici non bellissimi, devo dire. E questo qui è. Se avessi ali come le tue volerei dappertutto. Premi spazio per saltare. Sì, va bene, lo so. L'ho imparato. Ero convinto si potesse volare più avanti. Invece si può già volare così. E scusate... Uh, ma se si va in alto... E poi si cade giù. Ma non ci si fa male, è un vento vertigine. Allora, altare. Vediamo. Dieci secondi. E ci siamo. Ok, posiziono l'altare. Minca se l'altare sarebbe grosso. Dove lo mettiamo? Non è pianeggiante. Eh, mannaggia, non abbiamo spazio. Dove vuoi che lo metta io l'altare? Scusami. Non c'è niente di pianeggiante. Qui. Eccolo qua. Ok. Carino. Sacrificio d'oggetto? No, vabbè. Adesso torniamo da lui. Voglio vedere l'altare. Ok. Possiamo sacrificare. Ok, migliorare. Vabbè. Adesso vediamo. No, voglio capire come si va giù. Come si scende giù. Con la C. Ok. Allora. Mi darà altro... No, no, non il laboratorio. Volevo parlare con Jirk. Iniziare a manare in mano. Volevo dare in mano a purificare. Potenziare fabbrica e sbloccare storie interessanti presso la forgia del drago in cima alla collina. Migliorare il laboratorio e renderà più veloci per durare una PGM. Potrebbe essere necessario costruire altri altari per generare mano ancora più velocemente. Hai guadagnato mille di esperienze, 120 carbone. I servitori possono trasportare automaticamente le merci per te. Quando le consegne arrivano in un altare, condannirà in mano. Anche quando il gioco non è in esecuzione. Ah, ok. Per organizzare una consegna vai in un edificio e usa il pulsante Consegna per decidere dove devono essere inviati i nuovi prodotti. È possibile consegnare a più di un edificio al costo di un solo servitore. Laboratorio. No. Intanto qua stanno facendo di tutto fuori. Spero non lo sentiate, ma... Ok, allora. Scusa, non ho capito. Se io vado su Altare... Boh, il tuo inventario... Non ho ben capito questa cosa. Adesso ci studio un attimo. Perché dobbiamo... Produrre mana, credo. Adesso aspetta che vado a ridomandargli. Perché... Posso trasportare... Quando le consegne arrivano in un altare, guadagnerà in mana anche quando giocano... Vai in un edificio, usa il pulsante Consegna per decidere dove devono essere inviati i nuovi prodotti. Ah, ok, 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 ok. Quindi praticamente qua... Vediamo un attimo. Devo produrre... Adesso diamo un'occhiata prima qua. Questo è un altare. Sacrificio dell'oggetto. Migliora... Ok. Praticamente dobbiamo produrre qualcosa e l'uscita dell'oggetto... Vai giù però. Ok. Io voglio produrre Gemma dell'acqua. Consegna. All'altare. Ah, ok. E così mi produce mana. Ma non ho capito al costo di cosa, ma... Ma ci sono i servitori che consegnano... O non si vedono, probabilmente non si... No, no, eccolo lì che si vede, che sto trasportando, quindi... Gilghi mercante, adesso puoi iniziare a guadagnare mana automaticamente. Adesso guadagnare mana in continuazione con offline. Vediamo un'occhiata alla forza del dago in cima alla collina. No, di qui li potrai sbloccare nuove ricette. Spero non siete pronti per... Penso siete pronti per attire. Buono. Un'altra esperienza. 120 carbone. Ok. Ben fatto, hai raggiunto il livello 4. Va bene. Danni aumentati. Ok. Ma adesso io che devo fare? Nel senso che ho sbloccato del mana. I servitori stanno portando tutto qui. E all'altare... Sta producendo il mana. Vediamo un po'. Ah sì, 10. Gemme dell'acqua. Vedete che l'han caricate. Qua sta lavorando. E le consuma. Ok. Poi non so cosa ce ne facciamo. Comunque dobbiamo andare in cima alla collina. Sì, ma non so dove sia la collina, però il problema è quello. Diamo un'occhiata. Qua c'è il mare. Possiamo spezzare la meditazione. Anche perché se andiamo qui non si può andare semplicemente. Quindi... Molto semplice. La collina deve essere questa. Ma eh sì. Eccola qua. Puoi andare giù. Grazie. Usa la forgia del drago. Acquisire un'antica saggezza e sbloccare molte ricompensa come ringraziamento per il duro lavoro svolto. Avrei bisogno di 3000 per sbloccare la storia. Ok. Ah, eccoli qua in alto. Sì, non l'avevo visto. Ne avrei bisogno di 3000 per sbloccare. Ma al tempo stesso possiamo anche sbloccare la maledizione e quindi accedere a nuove aree di gioco. Il gioco fondamentalmente è questo. Anche questo. Mi dico se poi vi va. Insomma lo si porta anche in live, però... Vediamo. La lampada, no. Laboratorio che ha gemme mistiche. L'altare sacrifica le gemme. Quindi il laboratorio che ha gemme. L'altare, usando cosa non lo so onestamente. L'altare sacrifica le gemme. La cucina, cuoce cibo. Probabilmente qualche meccanica avanzata. Il mulino elabora i materiali. La fattoria produce cibo. L'edificio produce acqua. E il pozzo produce acqua. La farmacia, gemme avanzate. Miniera produce minerali. Non so adesso. Ah, più uno al secondo. Ok. Ok. Ah, qua posso spendere per migliorare la quantità. Ok. Adesso ne facciamo uno e sei. Velocità. Io spendo un po' per aumentare. Ok. E abbiamo aumentato adesso. Ne produciamo più 3,4. Vediamo se all'altare possiamo fare qualcosa. Sì, assolutamente. E anche la velocità. Ok. Ne produciamo... Sì, sempre a 3,4 al secondo. Però meglio di prima sicuramente. Potremmo pensare di costruire un secondo altare. Il problema ci servirà anche un altro laboratorio. Perché bisogna vedere quante ne produce. 9,625 gemme. Eh, forse potrebbe fornire anche un altro altare. Il problema è che non c'è spazio. Mi sta... Questo terreno qui non c'è spazio proprio per niente. A meno che non me lo lasci mettere qui. Però... No, è infetto. Poi ci costa 1,400 uguale a rimuoverlo. Quindi non c'è spazio. Neanche qui. Però intanto possiamo dare un'occhiata a vedere. Ah, qua posso spezzare la maledizione per 200. Vediamo un po' come funziona. Hai purificato la terra. Ok. Quindi possiamo accedere anche di qua. Non tantissimo, credo, però... Stuttizio è qui. E infatti, però... Direttore delle consegne. Vuoi assumere altri goblin per le consegne? Donarci del cibo e ti aiuteremo per sempre. Ah, noi produciamo del cibo per... Ah, io gli dono le fragole. Ne ho 17, ma ne vogliono 50. Ah, ok. Così otteniamo i lavoratori aggiuntivi. Ok, perché al momento ne ho uno. Questo è Manny. Ehi, la sono Manny. Se non ti parlare la maledizione o fragola, se non vedrai artigiano, puoi realizzarne uno. Dimitri al consumo di munizioni, aiutandoti a risparmiare carbone. Piuttosto difficile da realizzare, ma se ne realizzarai uno, ti darà una ricompensa. Vediamo quanto sei bravo. Puoi trovare la ricetta in officina. Ok. L'amuleto o fragola? Adesso, provo... Non ho ancora capito come si fa a scendere. Ma scende da solo. Non è il tasto C, ma scende quando non ne ha più. Allora, vediamo un po' la ricetta. No, 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 no. Continua a fare quello che stai facendo. Devo andare all'officina. L'amuleto o fragola, abbiamo detto, eh? Facciandolo dopo. Ho l'amuleto fragola. Trenta fragole, possiamo farlo. Aspetta, ci mancano le fragole. Un piccolo particolare. Piccolissimo particolare. Vabbè, ma le otteniamo. Le otteniamo con i cespugli. Sono abbastanza confuso. Nel senso che... Storcevo un po' il naso per il discorso del drago. E sto con cuore un pochino il naso, eh? Vi dico la verità. Però sembra essere più profondo di quello che sembra come titolo. Dipende molto dal prezzo. Purtroppo al momento il prezzo non lo so, quindi sarà da vedere quando uscirà. Perché un 10 euro ci stanno, anche un 15. Di più, secondo me, va su un discorso di soli appassionati. Vedete che lui proprio butta dentro a badilate la roba. Bisogna vedere quanto va avanti in game avanzato. Può essere anche carino per avvicinare magari un nipotino, un figlio, insomma un bambino a gestionare di questo tipo. Perché no? Riducere, utilizzo i munizioni. Devo andare a parlare col trenzionale. Qua è il contrario. Il punto di domanda vuol dire che hanno una quest attiva, qua invece che il punto esclamativo che hanno finito. Non pensavo che saresti mai riuscito a farlo. Solo questi tre biscotti, il buono ne compensa, no? Quindi congratulazioni. Guadagnato 2.000 esperienze, tre biscotti. I biscotti potrebbero servirmi per sbloccare altri goblin. Vediamo se vogliono dei biscotti. Questo macaron, no. Minchia, tradotto proprio bene, macaron. Allora, torta, pizza. Biscotti. Posso donargli, ne ho solo tre. Posso donare fragole. Nove. Mamma mia, ne mancano poche. Però poche relativamente. Fammi recuperare un po' da qui. Intanto la nostra produzione continuerà anche offline. Quindi, allora, già il nome Dragonforge mi fa pensare a un gioco mobile. È su Steam, quindi. Poi magari si scopre che è uscito in free to play. Però non credo. Ok. Dai che forse ce la facciamo. Yes. Eh, eh, ho sbloccato un goblin. Uno o due fonti di consegna disponibili. Questo limite il numero di edifici... Limita il numero di edifici fonti a cui i servitori possono consegnare. Ciascuno può consegnare un numero illimitato di destinazioni. Avevo sbloccato uno. Quindi possiamo consegnare ancora? Oh. 3.4. Gemma dell'acqua. Ma io voglio capire, ma che cacchio consuma questo? Cioè, il laboratorio crea, ma senza risorse. Cioè, non... Boh. Ah, usare vicino all'acqua o alla lava per raccogliere un liquido. Ah, figo. Forse in pelle... Cioè, comunque, noi di tutto questo non useremo mai nulla. Però... Vediamo un attimo quanto ci serve per arrivare... Ah, no, ma in città ci possiamo già arrivare. Spettacolo. No, non sparare i villici. Oh, cacchio. Ci sono anche i nemici qua. Ok, ossa. Hai scoperto una sfida. Hai 30 secondi per eliminare 6 nemici. Buona fortuna. Quanti? 30 secondi 6 nemici. Vediamo, vediamo se ce lo facciamo. Beh, ma non mi metteranno una sfida viola subito così su una sfida improponibile, no? Nooo, ce l'avevamo fatta! Siamo morti. Siamo tornati! Sì! Ok, siamo in città e vediamo che cosa succede. Ciao Drago, mi sono Graisman. Non potrei essere migliore, voglio ritrovarti. Sei un Drago, solo tu puoi aiutarmi. Hai visto qualche scheletro? Sono creatore terrificante. Fetch quest. 30. Giornata. Ok. Non ho ossa. Dovrà avere ossa, credo. Ma ne ho solo 6. Questo invece cosa vuole? Ah, questo vuole completare una collezione. Basta, tutto qui. La città finisce tutto qui. E sotto c'è qualcosa ma è ancora infetta. Mentre di qua si va ancora sull'infetto andante. Vediamo un attimo. Adesso appena riacquisisco la capacità di volare in alto. Vediamo che cosa si può sbloccare. Minchia, qua costa 2 milioni di mana. Rimango sconnesso per 6 mesi. Non mi prende il Fragole, va. Allora, torniamo a casa. Per sbloccare la maledizione qua ne servono 1.400. 1.400 e avremo un nuovo... E dobbiamo farlo perché devo fare nuove piattaforme, diciamo, nuovi altari per portare avanti il mana. Ragazzi, gioco carino senza dubbio. Magari può essere la base per far appassionare qualcuno i giochi di gestione. Un po' di portarsi su qualcosa di più complicato. È carina questa cosa del drago. Non è sicuramente un capolavoro. È un indie fatto o piuttosto bene. Quindi ora attendo il vostro parere e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi e ciao ciao! Grazie a tutti!